Storia, tradizione, folklore e leggenda, in una parola la disfida di Barletta. Come ogni anno, la città, il cui nome dal 1503 è associato allo storico fatto d'armi, si appresta a celebrare gli eventi rievocativi della sfida che vide protagonisti 13 cavalieri italiani guidati da Ettore Fieramosca e 13 francesi capitanati da Guy de Lamotte, in un avvenimento, poi narrato da Massimo D'Azeglio, e da molti indicato come punto di riferimento per la nascita del sentimento nazionale. L'edizione 2018 della disfida, che andrà in Scina dal 7 al 9 settembre, è organizzata da amministrazione comunale in collaborazione con il Patto Territoriale Nord Barisio-Fantino e Dida Art. Guarda al futuro con un rinnovamento vero e proprio. Quest'anno abbiamo cercato di mantenere saldi gli elementi storici, l'integrazione ai gruppi barlettani, quest'anno con dei gruppi che vengono da altre città d'Italia, vengono da Napoli, vengono da Cava dei Tirreni. Gli attori quest'anno, Gaspari Capparone, che già lo conoscete abbastanza, perché lui è stato uno dei più grandi attori italiani, è tuttora uno dei più gettonati attori italiani, ricordiamo il commissario Rex nella sua figura, ed è stato anche a Barletta, è stato nei panni di Lamotte nel 2005, nel combattimento, quando avevamo come Ettore Fieramosca Fabio Pulco. Tra eventi tradizionali come l'offesa o il giuramento, fino ad arrivare al Clou con il corteo trionfale di domenica 9 settembre, ed eventi collaterali come la gara podistica e il certame della corsa, obiettivo degli organizzatori è quello di creare una manifestazione che vada oltre i tradizionali spettacoli e sia sempre più contestualizzata nel periodo storico di riferimento. Ricostruire il contesto storico sì, è una cosa che stiamo cercando di fare anche attraverso una programmazione di convegni internazionali di studio, che si tengono a febbraio ormai da diversi anni, di conoscenza del patrimonio e di promozione anche nelle scuole. La storia è una materia che si plasma, è plasmabile, è una materia viva, non siamo depositari della verità, ed ecco perché è importante che questo tipo di aspetto venga recepito, perché il patrimonio e la conoscenza storica si costruiscono insieme. L'edizione 2018, annuncia il sindaco di Barletta Cosimo Cannito, rappresenta un primo passo verso la realizzazione di una serie di eventi che avvicini sempre di più la disfida a manifestazioni celebri sul territorio nazionale, come ad esempio la festa dei Tre Ciri a Gubbio. L'anno prossimo ci impegneremo, è una promessa che faccio e che spero di poter mantenere, ovviamente tutto fa riferimento, correla al finanziamento, ecco perché si aprirà un dibattito politico sulla necessità di costituire una fondazione, la disfida di Barletta, che poi abbracci tutti gli eventi culturali della nostra città, e questo è un dibattito importante che porteremo in Consiglio Comunale. Grazie Grazie